buongiorno l'orchidea di merosolo l'orchidea di medicina per l'anima vi ricordo sempre il libro è l'orchidea storia e personaggi quattro edizione 562 pagine di orchidee a tre grandi pregi costa poco semplicissimo l'ho scritto io compratelo leggetelo ho fatto delle buone recensioni su amazon l'altro giorno mi ha fatto vedere la lelia lundi che era in boccio si stava prendendo la sua ferita vedete com'è ma la cosa curiosa vedete qui si vede bocciolo vedete quando questo questo è un nuovo ramo che prima fa il fiore dopo il fiore farà il bulbo e la pianta e le foglie è una cosa curiosa perché fa l'incontrario di tutte le altre orchidee comunque è molto carina viene da brasile una bella miniatura mi ha chiesto di fare un video come si mette il piede dell'orchideria ogni tanto viene fuori qualche nuovo ragazzo che è da appassionato diventa un collega diventa mette su un'orchideria si mette a coltivare le orchidee particolari perché quelle commerciali le si sono coltivate industrialmente quelle particolari si sono coltivate in tante varietà in piccoli numeri bisogna prima di tutto conoscere documentarsi molto sulle orchidee poi adesso direi che il periodo penso meno dato di tutti perché siamo in una situazione che non lo so io come andrà qui in italia tra il debito pubblico che abbiamo la burocrazia pazzesca tutte queste cose qui diventa sempre più difficile cioè si passa un sacco di tempo a svolgere pratiche burocratiche poi però l'appassionato non è il lavoro è un piacere è un divertimento è un gioco direi che i tempi non sono molto adatti comunque una orchidee fa parte dell'agricoltura della floricoltura che fa parte dell'agricoltura e segue le leggi dell'agricoltura per cui deve essere fatta sul terreno agricolo bisogna costruire una serra magari se trovate un'azienda vecchia che chiudono così che c'è già una serra evitate tante roglie perché bisogna fare un sacco di permessi domande così se trovate già praticamente tutto il massimo la serra sarà di rimodernare da mettere a posto e poi bisogna avere una buona conoscenza dell'orchidee perché è uno che si mette a fare come si chiamano quello dell'orchideria l'orchido se uno gli chiede che cos'è questo qui questo vero ci ritrovo e quello l'elucidium piumotocchio viene da qui viene da la sentire così stile cosa c'erano poi non sapete deve sapere che ho detto come tratti bene su tutte queste cose qua oltretutto per un appassionato lo dico sempre documentarsi con l'orchidee non è un impegno è un piacere è una gioia io quando ho cinque minuti di tempo mi documento sull'orchidee su quelle che ho su quelle che ho nella lista dei desideri quando ho qualche minuto di tempo sempre meno perché gli impegni sono sempre tantissimi cerco di documentarmi su queste cose qua e dopo adesso sono momenti direi molto molto difficili perché l'italia purtroppo a questo debito pubblico che spendiamo un casino di tre debito pubblico sempre tagli sulla sanità tagli di qui tagli di tagli di là diciamo che se un giovane un giovane agricoltore ha delle agevolazioni delle generazioni finanziarie cioè si mette su un'impresa ci sono dovete documentarvi molto anche solo procassi su quello che c'è su quello che si può fare comunque direi che la cosa migliore vi evita un sacco di logne con trovare la vecchia floricoltura e subentrare lì perché lì c'è già tutto c'è già tutti i permessi tutto quanto mi sono diventa casino diventa temati c'è un amico crespi bonsai che adesso sono l'ultima volta che ho visto la prima della pandemia a masino lui è molto più anziano di me che ha fatto su un'azienda che ha fatto più di 40 anni fa è la crescita e che è una cosa veniristica ancora oggi piace bellissimo il tuo posto di pepa adesso dobbiamo rimodernarlo e fare delle strutturazioni così gli otto anni che siamo in ballo non abbiamo ancora tutti i permessi otto anni e non abbiamo ancora tutti i permessi che sa cosa ci vuole in italia purtroppo è così ci sono queste cose qua per cui trovare un'azienda da da subentrare la cosa migliore ok dai a domani